ciao ragazzi benvenuti in questa nuova live ration salernitana roma mancano 17 partite alla fine e chiaramente ogni partita è decisiva lasciatemi dire giusto due parole prima di parlare dell'avversario di oggi di parlare di altro di entrare in campo perché devo dirvi un paio di cose perché siamo arrivati qui oggi mi sembra che è 23esima giornata 22esima siamo in una situazione veramente complicata che penso ci saremmo aspettati di trovare a questo punto della stagione e ogni partito partita è sempre più un incubo veramente con il mercato abbiamo la conferma purtroppo delle decisioni che stanno stanno avvenendo perché mi aspettò veramente un attacco un attaccante per non buttare questo mese in cui ancora non è tornato di a forse tornerà dalla prossima l'attaccante non c'è stato siamo pieni di assenza e non sono state coperte quindi capisco il presidente che intende che comunque la rosa c'è che i giocatori sono ma sono tutti scassati quindi questo mese l'abbiamo giocato senza mezza squadra e le possibilità che avevi anche se i partiti difficili non te le sei potuto giocare al meglio nonostante queste viviamo un periodo veramente brutto potrebbero essere le ultime della serie a adesso godiamoci le tutte non sappiamo quando potrà tornare quando la potremo rivedere nel caso ovviamente crediamoci ma sarà veramente complicato oggi affrontiamo a roma un avversario chiaramente forte tacco di bala lukaku pellegrini quindi capite bene la difficoltà e la difesa magari può lasciare qualcosina però c'è simi che vediamo se sfrutterà qualcosa se segna simi mi impazzisco a roma ragazzi voglio dire un'altra cosa di così a roma so che purtroppo oggi non ci sono e mi dispiace tantissimo anche perché non capisco questo divieto per di così a roma siccome vedo ten sempre tanto rispetto tanta passione entrambe di voce lì non ci sono mai stati contrasti anzi solo rispetto e amicizia per cui non capisco questo divieto e comunque spero di trasmettermi a meno poche sensazioni dello stadio anche di così a roma e sono a casa come quelli che è nata che sono fuori chiaramente vivono fuori salerno oggi in troppo più lunga ma adesso è mai risultato il stadio e come sempre l'idolo della serie a fa sempre il solito effetto andiamo per rilasciare la bandiera e vieni con noi iniziamo tutti lasciate dire che vogliamo salvarci tutto tutto e le città la curva la coloriamo di granata il cielo poi salzerà canto per i campioni salerni dan amici per l'ultra ma che cazzo si mi sono inizia tutto il campo mamma mia che ci ho visto già iniziamo è iniziata è proprio iniziata è proprio iniziata è iniziata la grande c'era tutto il campo c'era tutto il campo c'era fuori il gioco buzzi fuori il gioco Andreva stai partendo e ci ha capito si mi ci ha fatto nelle sue perle però poco esplodo ma poco sopra ma che cresci una volta una volta che possiamo andare sotto la pede ma cosa fischi che affattista siamo da solo tutto il campo che andrea e va su Mondoloide e ci vuole durare non ci vuole nare non ci vuole nare non ci vuole nare mi ha detto tutto che andrea mi ha assaltato tutto sul posto che andrea sul posto vedi che cosa è la nostra qual è la nostra finché la non hanno fatto in pazzo vabbè ma anche noi vabbè 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 Stiamo giocando solo noi, ma stiamo giocando solo noi, ho trovato il gol, 3-4 tiri buoni, non l'abbiamo sfruttato, l'occasione gravarosa c'è una 4-2 gol, l'altro non è stato troppo tardi, poi ci purgheranno subito, appena avranno l'occasione. Rosso, 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 no, no, è rosso, è rosso, è rosso, no, la parro, non lo vedi alla parro, non lo vedi alla parro questa volta, non lo vedi alla parro questa volta, fai sempre, vabbè incredibile, 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 non voglio dire perché non sono stato stato, lo vedi alla tv bene, però l'intervento da cui sembra veramente pericoloso, dopo vedremo alla tv, ma non voglio spormi troppo, però mi sembra veramente pericoloso. Comunque non fa parte nemmeno la posizione, o fa parte nemmeno la posizione, sembra veramente pericoloso da qui, però l'ho detto, l'ha visto in tv, perché non voglio dire se era rosso, è rosso. E aiuto, comunque un grandissimo primo tempo, ci siamo chiusi bene, e direte, va a stare 11 dietro, e grazie al cazzo, dobbiamo stare giusi, e abbiamo attaccato noi, è quasi la più grande noi, ci siamo chiesti bello perché a Roma non ha fatto un tiro, è un'occasione con l'opera lo stava con Cionà, e altri due, tre tiri carini, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Voi iniziare il secondo tempo, crediamoci, crediamoci, l'ha vinto, l'ha portata a casa. Ma è possibile, ogni partito c'è un ricore contro! Ma com'è possibile, ogni partito c'è stato un ricore contro! Ma com'è possibile? Ma zombiamo a mano aperta e zombiamo! Ma com'è mai possibile? Com'è mai possibile? E tra l'altro non pariamo mezzo al ricore! In Serie A in tre anni non mi ha mai parato un ricore! Non mi ha mai parato un ricore da tre anni! Ti voglio bene ragazzi! Ti voglio bene a tutti durante la partita! Mi ti lasciassato che mi sussongo da me la capo! Non è possibile che non abbiamo parato un ricore in tre anni! Su 20 ricori non mi ha mai parato uno! Ma che vergogna è! Ma che vergogna è sempre così! Sempre così le partite! Non ci state con la testa! Io non so che cazzo mi passa in testa! Mi faccio il servizio esponziare! E' una roba incredibile! Come il cazzo ti fa? Sottilo! 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 Non c'hai chiamato Paolo! Spero per lui che abbia chiamato Paolo! Dentro la porta! Stava dentro la porta! Stava dentro la porta! Scandaloso! Stava dentro la porta ma mi fa chiedare! Non è colpa di lui! Non me lo devo dire che non è colpa di lui! Non è colpa di Simu! Non è colpa di Simu! È colpa di chi ce lo mette! Ma non dell'allenatore! Del presidente! Io non compro l'attaccante dalla Serie C! Dalla Serie B! Mi devi far fare figura a questo povero ragazzo! Lo so! Era fuori il gioco adesso! Mamma mia che palla aveva messo di palla! Era fuori il gioco adesso! 2-0-1! Ma questa è una partita chiaramente per retrocedere! Sì! L'abbiamo capito! Dai! Diebolino ha bisogno del paracadute! Stasera è l'ultima chance per chiarirmi questo dubbio! Adesso è proprio chiaro! È proprio chiaro! Dispiace chiaramente per il pubblico e per questi ragazze che stanno mettendo tutto in campo! Essi vede che sentono sempre tutto in campo! Ma purtroppo devono essere mortificati! Perché non hanno le potenzialità purtroppo per rendere a questi diventi! È vero che è colpa anche di tener tantissime sensi che abbiamo! I due in Coppa d'Africa! I Bia non si è mai visti! Fazio rotto! Pirola rotto! Tutto quanto! Ma... L'erbolino abbassava veramente poco! Un paio di giocatori! Mi hanno attaccato la Serie B! Mi hanno attaccato la Serie B! Mi hanno attaccato già un paio di cose! Ma non ti hanno fregato un cazzo! Ti hanno fregato proprio un cazzo! Non è anche colpa dell'allenatore! Niente! Perché non ha giocatori da mettere! La responsabilità ce l'hanno il presidente e il direttore che inizia la stagione da una plusvalenza che andava fatta sono ordinati alla stagione in un modo clamoroso! L'anno scorso metà quella significa che abbiamo fatto! E quest'anno... Non pervenuto! Ma non Un fai! Un fai! Un fai! Un fai! Un fai! Un fai! Non mollate, non mollate, fatelo per la paglia, per la città, non mollate, venti minuti, è lunga, non mollate, l'unico di cuore, l'unico di cuore. Fai pagina da te, Grigori, Cassano, 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 Cassano. Si è menato, si è menato a terra, non hai mai ricordi, si è menato come a terra, si è proprio menato a terra, che peccato, mi ha fatto una gancia incredibile. Non so perché sei buttato, non c'è una scena in piedi, ma non è mai ricordi, non è mai ricordi, non è mai ricordi, purtroppo. BALLO! No, 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 stavolta no, stavolta no, è una pippa che una pippa, ma stavolta non è fallo suo, non è fallo suo, non c'è mai il rigore secondo me, non è fallo suo. Secondo me non c'è il rigore, ma non è fallo suo stavolta, non è fallo suo, è una pippa che una pippa, senza dubbio, non è fallo suo stavolta. Allora, uno, uno! Chi l'ha presa... Non riesce a fare le perse, non c'è sola. È colpi forti, gli altri quando vincono sempre al novantesimo, quando novantesimo quando non male, quando non male, gli altri anni segui stanno solo persi. purtroppo è evidente che mancano i giocatori settimana prossima devono tornare allora siamo disperati e serie b al 97 per cento e serie b che può vedere la fa ragionare il tempo a segnalare sono sicuro che con i giocatori la squadra completo di a cabra e alcuni bali tirola fazio avevamo ottenuto almeno una decina non dici almeno due vittorio l'avevamo fatta oggi sarebbe rimasto sicuramente molto perché la prossima torneranno tra due settimane sarà troppo tardi tanto oggi hai preso due gol e subito forse un tiro attaccante una punta gli do io non è possibile sono tre settimane che stiamo giocando senza un attaccante ecco il mio porto non c'ho niente però penso nel ruffo lì c'è un mio amico giocando rubla è meglio 10 volte meglio è riguardo tutto male quest'anno tutto male